Iesolo, una stagione turistica, quella 2014, tra previsioni meteo e tempo incerto. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. iPod, iPad, tablet e previsioni meteo sott'occhio. Due fattori che contraddistinguono il turista del terzo millennio. Ma quante volte è accaduto che laddove era prevista qualche goccia invece ha fatto Capolino un delizioso sole? Noi sappiamo che fino a 10 anni fa nessuno pensava che un giorno il turista avrebbe scelto, ha prenotato le sue vacanze su internet, avrebbe fatto le recensioni, invece oggi troviamo queste tendenze e anche il fatto di controllare il meteo prima di partire e di scegliere le proprie vacanze ormai è una tendenza molto in voga fra i turisti e influenza nettamente anche le attività economiche che sul turismo vivono. Ora sappiamo che, specie per il segmento italiano, il periodo di vacanza si è ridotto a 3-4 notti perciò chi affronta un periodo di vacanza così breve è influenzato molto anche dal tempo perciò le previsioni, quando sono sbagliate, influenzano neanche molto le presenze in una località turistica come la nostra. Invita invece ad una maggiore attenzione il primo cittadino di Iesolo, Valerio Zoggia perché per una cittadina che di turismo vive una previsione meteo errata spesso si traduce in danno economico. Previsioni errate che purtroppo provocano dei danni enormi al nostro turismo perché ogni fine settimana in cui si sbagliano le previsioni c'è danni e danni di qualche milione di euro e mettono sul Veneto, sulla zona nord-est, questo novolone con tutte queste gocce e in realtà poi qua a Iesolo e noi magari c'è il sole, è successo diverse volte. Questo succede perché le previsioni meteo, ci dicono gli esperti, vengono fatte su una vasta area e quindi non è facile individuare Iesolo, Cavallino, Caole, Sandonà e quindi può succedere. Come pensa quindi l'amministrazione di risolvere questo problema? Ci stiamo attrezzando fin proprio. Abbiamo fatto una convenzione ancora due anni fa con l'aeronautica militare in cui prevedono una serie di tappe che dovrebbe concludersi il prossimo anno con la nostra centralina collocata a Iesolo la quale rileverà dei dati che verranno forniti all'aeronautica militare e quale ci farà delle previsioni del tempo mirate per il nostro territorio. Ma parlando dell'estate 2014 ci si potrebbe chiedere è iniziata o è già finita? Perché al di là delle previsioni meteo corrette o meno quest'anno il tempo capriccioso, bizzarro e instabile si è reso protagonista ma Iesolo non limita la propria offerta a spiaggia e sole. Sappiamo comunque che Iesolo ha affrettato anche a livello commerciale e a livello di attrattive anche quando il meteo non è il migliore per vivere il mare. Abbiamo una rete commerciale vastissima, abbiamo un grandissimo parco commerciale all'aperto che è la via Bafile e dobbiamo essere bravi a vendere questo, a puntare sulla qualità e vivere la località anche in maniera diversa. Gli imprenditori che operano nel settore turismo a Iesolo sono quindi pronti a cogliere questa nuova sfida e l'amministrazione comunale su cosa punta per rendere piacevole una giornata non proprio assolata? Abbiamo un'entroterra che può essere visitato, parlo della laguna, delle valli eccetera che poi ci sono visitato anche in giornate che non c'è il sole. Ci stiamo attrezzando anche con dei musei perché abbiamo corpi plastinati, abbiamo il Sea Life, abbiamo il Museo Civico e Storia Naturale, abbiamo altre cose però la gente viene soprattutto a Iesolo per la spiaggia, per il mare e per il sole. E visto che di meteo si parla, previsioni per agosto? Diciamo che la stagione è bruttina, usiamo un termine positivo, bruttina. Ma forse se decidiamo di andare in vacanza è meglio chiudere iPad, iPod, tablet, smartphone e che vacanza sia.